La Regione aveva annunciato un tavolo con aziende e sindacati, ma nessuno ci ha mai chiamato. A dirlo è la FIOM Abruzzo Molise, che intende chiedere maggiore sicurezza per i lavoratori. Chiediamo che vengano fatti i tamponi, ma soprattutto noi ci preoccupiamo non solo del fatto che riguardi le grandi aziende, ma riguarda anche quelle piccole aziende dove non è presente il sindacato. Quindi nei nuclei industriali, secondo me, vanno predisposte delle unità che in qualche modo possano intervenire per aiutare i lavoratori nel momento in cui c'è qualche difficoltà. La FIOM chiede un protocollo con le aziende affinché i lavoratori non siano penalizzati se dovessero fare ritardo tra misurazione della temperatura, autocertificazione e mezzi pubblici. Ed è proprio il trasporto un altro annodo critico. Non tutte le società, afferma il sindacato, mettono in pratica tutte le misure per evitare il contagio. Sui mezzi di trasporto che cosa accade? Che esistono società che ovviamente riempiono l'autobus a un terzo della capacità e invece società che lo riempiono al 50% se non oltre. Ovviamente non è possibile avere dei trattamenti disomogenei, quindi è importante che ci siano dei comportamenti che siano omogenei e che quindi i lavoratori che possano utilizzare questi mezzi abbiano la stessa garanzia da tutte le società. E' per questo che noi continuiamo a sollecitare la regione Abruzzo di contattare il Molise perché i problemi maggiori vengono dal Molise e qualora non fosse possibile, a questo punto è opportuno che venga impedito la possibilità di entrare con degli autobus che non rispettano le ordinanze abruzzesi. Tutte problematiche queste che riguardano il lavoro a cui forse si sarebbe potuto pensare prima della tanto attesa riapertura di fabbriche uffici. La ripartenza diciamo che in qualche modo è stata anticipata in Abruzzo rispetto a quella del 4 maggio e noi siamo stati molto critici perché ritenevamo che era necessario organizzare per tempo la cosiddetta fase 2, c'erano tutte le condizioni.